Ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video quest'oggi parliamo della dashboard più resistente al mondo non lo dico io, lo dice Ken Muscle che è uno youtuber famoso inglese che l'ha testato e ha detto secondo me è una delle più resistenti e come non dargli ragione infatti questa dashboard Simlab SD43 LED è composta da un corpo in alluminio annotizzato molto ben definito e di un vetro di protezione davanti che proprio protegge lo schermo TFT USB D480 che è stato utilizzato per la creazione di questa dashboard sono presenti 23 LED 13 nella parte superiore per i giri motore 5 e 5 per le bandiere oppure per segnalare la presenza di qualche avversario ha una certa consistenza e peso non so quant'è non l'ho pesato ragazzi vi è presente un'entrata USB per collegare tramite il cavo da 2 metri che viene fornito al vostro PC infatti è solo compatibile PC mi dispiace per chi ha una console e può essere utilizzata con famosi software come Simab e Z1 Dashboard vengono forniti anche le viti per poterla fissare alle vostre basi e vengono forniti anche dei supporti per poterle agganciare alle vostre basi allora USB D480 vuol dire che cosa? è uno schermo 4 terzi con una risoluzione di 480 x 272 e qua potreste dire che risoluzione? sì perché il concept di questa SD43 LED è quella di dare non soltanto una compattezza e resistenza ma bensì una soluzione quasi in miniatura se facciamo il paragone con la performante di Eddie che saluto stiamo parlando di 1200 e non so quanto per tipo 36 cm questa stiamo parlando di 13,6 x 8,5 cm e per un TFT attivo complessivo mamma mia che sporco sto vetro per una visuale attiva complessiva di 9 cm di base per 5,5 cm stiamo parlando di uno schermino piccolo questa risoluzione in realtà funziona perfettamente si sposa perfettamente a quelle che sono le caratteristiche diciamo fisiche di materiale di questa dashboard ho avuto modo di poterla provare e vi garantisco che le informazioni sono super dettagliate e si riesce a distinguere bene anche tutti gli elementi e quei dati che sono forniti durante la guida questo succede anche grazie ad una brightness ad una luminosità davvero molto intensa ovviamente se dovessi testarla con questi due softbox e la 6000k lampadina che mi sta bruciando sulla testa ovviamente non mi renderebbe giustizia infatti se posso adesso metto un video qua o là per farvi vedere in condizioni normali come si vede bene c'è il dettaglio si vede molto bene devo dire la verità che si sposa perfettamente alla postazione riesce a disintegrare grazie alle sue dimensioni senza essere troppo ingombrante a livello visivo e devo dire che e devo dire che da quello che l'ho utilizzata mi ha dato parecchie soddisfazioni c'è una cosa che però mi fa storcere il naso anche se comunque consiglio per chi è amante delle miniature di poterla prendere una cosa in particolare lo schermo non è touchscreen c'ho solo un dubbio probabilmente il vedo di protezione avrebbe interferito con questo sistema qua e due probabilmente non hanno dato importanza a questo tipo di opzione e quindi è una cosa che probabilmente capisco però io mi dico è un'opzione che oggi con qualche euro in più si compra soprattutto perché Simlab mi sta chiedendo 300 papagne per un gioiellino così che secondo me però devo dire la verità dopo averlo utilizzato li vale ragazzi io spero che questa mia prima impressione e questa piccola recensione di questo gioiello Simlab SD43 LED vi sia piaciuto non esitate a lasciare un commento magari qualcuno di voi ce l'ha ditemi che cosa ne pensate ovviamente iscrivetevi al canale tanto è gratuito lasciate un like noi ci vediamo prestissimo perché ci sono veramente un sacco di cose da vedere insieme ragazzi soprattutto perché già mi stanno dicendo ma Fabri le prime impressioni del Simucube 2 come sono e ragazzi rimanete sintonizzati un abbraccio ciao